Ciao a tutti ragazzi, io sono Samux e oggi vorrei mostrarvi come installare OpenVPN in modo molto molto semplificato con l'uso di un file SH, ovvero un auto installer, VPN deriva da Virtual Private Network, ovvero nasconde l'indirizzo IP reale a cui siamo associati con una di un server, insomma dove ho stato e praticamente per connettersi al server si usa proprio OpenVPN Client, poi lascerò il download in descrizione insomma questo tutorial è molto molto semplice, ovviamente questo script non l'ho fatto io, è stato fatto da ora non mi ricordo il nome preciso, non da un italiano e infatti io l'ho tradotto niente, apriamo filezilla, ovviamente ci connettiamo al server l'indirizzo IP, il nome utente, la porta e... la porta usate la porta 22, che sarebbe quella di SSH per insomma per entrare nel terminale usate putty vi lascerò anche quello in descrizione allora, carichiamo il file che vi lascerò anche questo in descrizione l'autosetup adesso vedremo che il nostro file per installare la VPN si trova qua dentro ovvero nella cartella root del server adesso noi dobbiamo dare i permessi facciamo chmod 777 o fate con il nome del file ovvero così oppure semplicemente mettete un asterisco è uguale perché l'asterisco praticamente dai permesso 777 a tutti invece così facendo così dai permesso soltanto a un file singolarmente niente adesso vediamo che diventa verde ovvero che hai permessi e può essere eseguito adesso lo avviamo vedete? benvenuti in uno script che vi auto installa OpenVPN devo chiederti alcune cose prima di fare l'installazione puoi usare le impostazioni default e basta preghe e premio ok prima necessito di sapere qual è l'IPv4 ovvero l'indirizzo IP del server dice ho trovato il dp adress 139.59.132.115 infatti è quello del nostro server facciamo invio ora vi chiederà quale protocollo vuoi utilizzare? ora dipende allora udp è raccomandato però se voi avete un obh game consiglio tcp per le protezioni più che altro e dato che questo non ha questo server è un server normale e non ho messo le protezioni integrate quindi vado di udp invio quale porta voglio utilizzare però per VPN? io lascerei questa di default intanto cioè se non vi da fastidio se non avete altri programmi che la utilizzano potete utilizzare questa di default ok quale DNS vuoi usare per la VPN? ovviamente il DNS sta a dire che quando senza DNS ovviamente non puoi navigare cioè vi darebbe un errore che non ha proprio i DNS allora io qua c'è scritto o quelli di sistema o quelli di Google quelli di OpenDNS NTT Hurricane Electric e Vericing però io vi consiglio quelli di Google infatti leviamo 1 e mettiamo 2 e facciamo invio bene dimmi il nome dell'account usare soltanto caratteri normali perché se mettete quelli speciali non va bene cioè non lo prende nome dell'utente client però io gli voglio dare un altro nome quindi mettiamo Samux invio ok ho tutto il necessario installo OpenVPN per te premio qualsiasi tasto ok e inizierai il setup aspettiamo un pochino dipende questo dalla connessione del vostro server quanto ci mette a scaricare tutti gli aggiornamenti tutti i pacchetti finito il tuo account è disponibile e configurato qua root vabbè se vuoi aggiungere altri utenti ti basta di avviare lo script quindi facciamo ls ecco vediamo il setup del nostro account quindi facciamo aggiorna e vedrete qua Samux OpenVPN impostate sul dextro ok avviate OpenVPN client io ovviamente avevo già una VPN di un altro server fate più local import e selezionate insomma la VPN Samux il file che io l'ho messo per dextro ok fate save eccolo ora per connettersi basta cliccare qua sta prendendo configurazione assegnando IP address andiamo eccolo server IP ecco la nostra VPN l'IP che ti assegna il server e il traffico che consumi in tempo reale andiamo a vedere se il nostro IP è quello giusto vediamo dovrebbe essere 139 eccolo vedete anche se qua dice Australia ma in realtà il server si trova a Frankfurt a Frankfurt che ne so proviamo a fare un speedtest vediamo se i DNS funzionano ok vabbè questo è un bug di Adobe io ho tipo 60 MB però avendo la VPN ecco infatti vedete adesso voi se volete creare un nuovo account cioè volete aggiungere altri account per fare entrare altri utenti fate LS per vedere i file cliccate qua avviate e vi dice OpenVPN già installato infatti l'abbiamo fatto prima cosa vuoi fare? aggiungere un nuovo utente revoca l'accesso a un utente rimuovi OpenVPN esci noi che facciamo? aggiungiamo un utente uno che nome le vuoi dare Samux2 fatto e ha aggiunto un altro account che può accedere alla VPN vediamo un po' qua Samux2 ecco questo li basta di portarlo sul text per caricarlo qua niente se poi volete revocare l'accesso fate due quale vuoi rimuovere Samux o Samux2 io faccio due tac rimosso infatti non c'è Samux2 anche se qua vi da i file però non potrà più accedere al server tipo guarda faccio un esempio no? perché voi avete visto che qua è rimasto quindi facciamo revoca Samux uno ok adesso vediamo vedete infatti non funziona più guardate non logga più login ma rimane così bloccato e infatti ha revocato l'accesso non possiamo più entrare per questo video è tutto io spero di esservi stato d'aiuto anche se è molto facile perché vi semplifica la vita praticamente questo perché se vedete quello manuale ci vuole molto più tempo e niente come sempre ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao ciao